Dopo la conclusione dei lavori della Commissione d'Accesso al Comune per vagliare possibili infiltrazioni mafiose all'interno di via Perugini e la richiesta di scioglimento, ora al vaglio del Ministero, il sindaco Paolo Mascaro ha indetto una conferenza stampa che si è svolta ieri per analizzare e documentare il lavoro svolto in contrasto con la criminalità organizzata. L'incontro si è tenuto nella sala napolitano e dove si sono affrontate le tematiche di recente discussione come il piano spiaggia, il reo, il psc e sono stati resi noti i futuri comportamenti della maggioranza di governo. Ma credo sia una doverosa conferenza stampa, una conferenza stampa per rappresentare quella che è stata l'attività dell'amministrazione di contrasto alla criminalità, di favorire sempre l'applicazione concreta del concetto vero di legalità, di ripristinare le regole della buona amministrazione che erano a parere del sottoscritto state ampiamente violate in passato e quindi c'è una prima parte della conferenza stampa che tenderà a rappresentare questi aspetti. Si passerà anche, come giusto e doveroso che sia, ad approfondire due tematiche per le quali vi è stata una clamorosa speculazione e cioè tematiche inerenti al piano spiaggia e la problematica del reo psc per le quali io ho proprio la documentazione e le relazioni che mi sono pervenute dal responsabile del procedimento e dal dirigente e si chiarirà alla città che ha bisogno di saperlo quale sono gli intendimenti della maggioranza consigliare di governo in vista dei prossimi appuntamenti che comunque una città quale la mezzaterma deve affrontare. Io ho la certezza che non sussistono i presupposti giuridici e normativi per giungere lo scioglimento perché presupposti giuridici e normativi per giungere lo scioglimento è che qualsiasi eventuale tentativo di infiltrazione o di condizionamento che possa essersi verificato per il tramite di qualsivoglia soggetto deve trovare riscontro in qualche atto amministrativo che debba essere, debba concretare quel requisito indispensabile secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato affinché quello che astrettamente può essere un tentativo da parte di taluni di infiltrarsi in quello che l'apparato amministrativo abbia comunque raggiunto il suo scopo. Io ho la certezza assoluta che due anni e mezzo di amministrazione dicono che questa è un'amministrazione che ha contrastato con forza la criminalità organizzata e nel mentre noi stiamo parlando alle ore 13 scade il termine per la presentazione delle domande affinché si possano ottenere beni confiscati del valore di circa un milione di euro che la mia amministrazione tramite specifiche manifestazioni di interesse ha ottenuto dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e in tempi record ha ultimato la procedura. Sappiamo tutti che la mafia e la criminalità organizzata hanno soprattutto la necessità di preservare quello che il loro cosiddetto prestigio e ciò che più odiano e più detestano e che beni di loro passata proprietà possano essere utilizzati a fini sociali. A tal riguardo se qualcuno di voi ha ad esempio approfondito quella che è la relazione della Commissione parlamentare antimafia relativa agli studi e agli approfondimenti sui comuni in precedenza interessati da accesso prefettizio che hanno avuto la tornata elettorale del 25 maggio 2016 si scrive in maniera chiara e netta che uno dei requisiti e degli indicatori affinché si possa capire se un'amministrazione è infiltrato o condizionato dalla mafia è appunto la tempestività o l'inerzia con la quale si affronta la problematica dei beni confiscati ho l'orgoglio di dire che credo che in Italia vi siano poche secondo me nessuna amministrazione che in quest'arco temporale così ristretto ha richiesto 21 beni confiscati e di questi 21 beni confiscati tanti li ha già destinati ad attività sociale.